Abbiamo fatto come ACLI, ACLI provinciale di Pesaro, una indagine sul terzo settore a Fano. Il terzo settore, ai sensi della riforma, ha un registro nazionale e nel registro nazionale nel comune di Fano sono 159 le organizzazioni del terzo settore iscritte. Questo ci dà una dimensione di una città, lo sapevamo già, molto attenta ai temi dei processi che riguardano non solo il sociale ma anche l'ambiente, il benessere animale, la cultura. Questi temi sono dentro questo contesto e le associazioni iscritte, divise per categoria, organizzazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale, soggetti che hanno accreditato nell'iscrizione all'albo il diritto di avere a sensi della riforma i benefici e anche gli obblighi previsti della riforma. Voi che cosa chiedete all'amministrazione? Che cosa vorreste? Un'amministrazione condivisa? Il principio dell'amministrazione condivisa deriva da una sentenza della Corte Costituzionale, la 131 del 2020, che in maniera rivoluzionaria pone in essere un rapporto alla pari tra pubblica amministrazione e enti del terzo settore. Questa sentenza poi ha avuto una declinazione all'interno della riforma con dei principi che l'amministrazione deve poi portare a compimento, quello della coprogrammazione e quello della coprogettazione con gli enti del terzo settore. Tutto questo per il bene comune? Sì, tutto questo per il bene comune perché le associazioni iscritte a vario titolo all'interno del RUNS, del registro, hanno un fine statutario che ha la valenza di intervenire in quei settori direttamente con capacità e competenze rispetto ai ruoli che le stesse associazioni hanno. Parliamo di numeri? I numeri poi li abbiamo rilevati in maniera molto precisa rispetto alle varie organizzazioni iscritte, cioè le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, le fondazioni e gli altri enti del terzo settore.